ciao a tutti e benvenuti a gameplay è rimasto che avevo accacciato una geralla, un gravios e un ragazzo, buonasera a tutti, buonasera signora mercante, fa lo stesso lavoro del vecchio mercante, mangio, ecco i cacciatori di ventura hanno perso, perfetta, ci manca solo questa, allora prolunga abilità quando mi alzo, il gris deve essere spinguto via da un altro ricavare materiale, di mezza data difesa resistenza ridotta, c'è la mia coppia preferita, aumenta la percentuale di successo di combinazione del 20%, io ci posso resistenza quando furono mostri grandi, il gris è spinguto quando mostro mi vede, viene più facile a fura quando mostro ne blocca, può spinguto il gris, ok ragazzi benissimo, che cosa avete perso, ha conto i due braccius, ha tre stelle, ma apposto, fate fatti lo schifo, non avevamo un po' voglia che cosa avete qua, ancora questa qua, no la rifaccio proprio, guarda, visto che mi è ricapitata, sottotiro, ho già due braccius a livello 3, basso, no comment, buonasera signorina, ecco qua ragazzi, prima missione avanzata, con i miei mostri frenetici, c'è affetti della frenesia, cacciare un tigress nella steppa gestrale, in più con il rischio di che la zona sia instabile, per chi non lo sapesse vuol dire la presenza di un ulteriore mostro grande, nella missione, quindi ulteriori problemi a fare la missione, madonna, non è affanculo già già di merda, forza ragazzi, andiamo, anzi più o meno ad andare, fare così, vi metto su un po' di statistiche, andiamo un po', andiamo un po', andiamo un po', andiamo sonore, interessante. Questa ragazzi è nuova, onde sonore, va bene. Allora, il bra S, il T-rex deve essere qua. Spero che sia normale. Eccolo, sì ragazzi è normale. Eeeh, vaffanculo. Che cazzo. Eeeh. Già inizia spaccare la palla. Ragazzi non ci posso credere. Cioè morire così, guarda. Morire così non ha l'incredibile. Ha proprio della sconvolgente. Non ho una parola. Non ho una parola. Non ho una parola. mati. C'è stata un da sonora e poi non ho capito se ho sbagliato. Che cazzo si intende? Vabbè. Magari dovrebbe potessimo un po' contro le rilugite da sto cazzo invece. Vabbè. passiamo a perdere. Andiamo a spaccare questo cazzo di T-rex che mi ha fatto fuori in maniera veramente scandalosa a dir poco. Anche perché più passa il tempo e più lui rischia di morire e deve svegliarsi da frenetico. Perché succede anche per i cavoli loro. Non bisogna essere per forza. Lo è già. Fare un culo. Che culo del cazzo. Va a fare un culo. avuto. Dai, frutti. Ti preso. No, cazzo. Avuto. Vado all'affanculo. l'affanculo. Se riesco a tornare il tronco. E' stronzola. Mi do. Toon. 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 E' stronzola. da una cazzo così un paio che sbraio, se riesco a e dai che sbraio va male eh? eh eh, ho potuto caro ballo beh quindi oddio fanculo ma grazie a cazzo non mi aiuto non pensare di potermi con il primo che aveva stronz dai ste cariche del cazzo che fa ragazzi siete già venuti? a posto ho messo male allora mamma mia ho rischiato non poco dai se ne nello su dai se ne nello su mi si è illuminato mi fa strano molto anche quindi quindi te ne vai qui lui va nella zona 7 vediamo se lo faccio così ne approfitto in questo senso qua che ti sei preso bene sono anche riprendete guardate questo ma cazzo sarampica non mi fa non mi fa ragazzi non ci posso che non ce l'ha fatta mamma mia aiuto non ci sono hanno se non cazzo non ci posso anche che adesso non cazzo non ci posso molto cazzo non ci posso riuscite nere a scavare la montagna che pirla merda dai dio caro cazzo di ragazzi il signor si riprende in modo frenetico ai 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 aggiunta in regge così l'ho evitato dai 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 da 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 aiuto qua a levarsi è praticamente impossibile anche se non si è esadistanti cazzo perchè sei così affaticato ti versi cazzo dai andiamo un po' adesso stai facendo il colpo di coda non penso che ci sei cazzo torca puttana dopo ma cosa vuoi fare non 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 niente ragazzi mi darò una più speranza di di farcela non è che non sono a una certa distanza si? no, è bella incazzata ragazzi questa sarebbe una occasione giusta e vai bravi ragazzi se la fate più spesso meglio ancora mamma mia quando mi sono tirato e ho fatto bene provo adesso eh 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 ho fatto benissimo vedo i miei gii ragazzi fate calma tam 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 ben dai dai forza forza ragazzi tam 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 che è che adesso forza mamma aiuto aiuto stai male si mi stai tenendo me adesso bene merda via che culo via sta l'arma madonna santa ce l'ha fatta qua torta puttana mamma mia non avrebbe potuto la mente che mi fa una altra volta non avrebbe potuto la mente che mi fa una altra volta sono qua e si attacca a mecca stocca a c'è male non mi sono scorso il pote d'osso un po' di stecate lo tirate un po' di T-Rex, si è ancora la Rage mannaggia morta va, aiuto incazzatissima, proprio non vuole andare sotto, cazzo mamma mia sono andato sotto per sbaglio, cazzo mamma mia, aiuto porca puttana porca besta, aiuto, aiuto, aiuto mamma mia ragazze, dove sono andato a piedi si sono andato a piedi, non si è andato viva 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 eh eh eh, non ti riesco senti io devono fare il cazzo viva viva pangula bene ragazzi vado a lui prima che la frenesia mi colpisca eccolo molto bene dai sogarinella forza forza ragazzi viva madonna porca puttana madonna aiuto no vado un po' sotto a me dai se non è mello se non è che tu sei andato quando è così andiamo speranze niente me la devo andare anch'io se posso vediamo se voglio mettere un po' di pozioni bravissimi ragazzi e come on let's go bisogna seccare guardate che seccazza be' stronza vai vai affrancula come stai ralentando eh 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 collassi mi piacciono 5 rigi 5 rigi e che cazzo allora torno indietro per sistemare l'arma che cazzo diamo camello occhio dai tierex un altro tumore però e balleva e voglio che balleva su attacco qua.. nooo la spia si è mi attaccato sei che buonanotte allora Porca puttana, aiuto ragazzi, mamma mia, magari la finisce che mi attaccasse, no, cazzo, nonostante, non sei altro, eh già, sembrano male che sia anche un po' da buccia, vediamo se riesco ad attaccarti da quassù via via madonna merda ma dio mostro ma deve fare il culo guarda come fa fare il zoccano non a posto sono la rossa è sempre bebole dai stronzo stronzo dai che sono qua dai dai c'è in bocca adesso è andato cazzo vaffancula c'è ragazzi quest'asse svenuti tra chi siete sempre inattivi porca bruttana dio sto cristo non voglio ammazzarla un'altra volta si ho capito che mi attaccherà un'altra volta non 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 se non 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 ne in questo stato Dio caro no cazzo non l'ho messo male, adesso mi avanti 2 3 dai schiatta cazzo oh no mi vettico spaccate la testa dove che vai eh direttamente alla mia direzione ok questo che è un open cazzo ne li mangio tutti sistemo questo sistemo anche questo vediamo vediamo e vediamo un po' se vediamo vediamo adesso vediamo il mio manovra quindi tutto il fatto è sopporto adesso è morto anche te se no ok porca puttana vediamo 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 che è ho passato 25 minuti dopo 10 minuti mi incazzavo come la viscia ho fatto un tubo, vedete che canto che viene fuori da questa arma, ok, nel senso che ci non so se non lo faccio così, se trovo il nuovo è un po' cazzare in fuori, se è sempre la stessa cosa, eh pochi scusa ma, ok, adesso basta se non rischi di perdere il segnale sul T-Rex, anzi qua non lo trovo, mi metto questo addosso, si è messo a dormire, no non può essere ragazzi, non può essere, è la, ciao T-Rex, vale detto l'una se l'altra, che venisse un colpo, da che pensi che morirezza qua, tum, 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 mazza, mamma mia, si fa una paura che, un po' stessa più, la besta è accammato, è toccato, dai cazzo, ti coglioni, ma forse sono, Abbasso segnale, ragazzi Aiuto Torno Torno Eh eh Dai Mamma mia Da fine siamo colpito Mamma mia ragazzi Parchi smenuto Slug Marco magazine va Ragazzi una roba pazzesca la morte Stava mi piace ma finisce a tuo punto Noi ragazzi Vediamo assi che non è difficile Debbare dare la funesia con l'antifnesia Prozacan Spaglia addosso Continuando le condizioni O diventando il problema E' una teatro tirato però Dai ragazzi Un ballo incazzato Scusa si non è volata Sto giro ti ho potuto io Scusa si non è volata E' una teatro E' una teatro E' una teatro Vaffanculo Grazie, grazie Devo andare immediatamente da lui Prima che La energia mi colpisca ancora E devo più forza stagli addosso Dai, cazzo Stagli addosso Ok Se ne ho anche cavolo di fratto Ecco Una parola stagli addosso in questa connessione qua Mi da parola Le culo Ciao Una bella ragione si arriva Un'altra stranza Un'altra stranza Un'altra stranza Un'altra stranza Questa è morita però sai Un'altra stranza Ma è dovuto morire? Ma cazzo Adesso Un'altra strana Cazzo Non riuscirò Ca' Un'altra strana non so più cose, quanto una miseria guarda il cazzo mamma mia non si ranna più non basta non basta non è proprio non è proprio non è proprio tutto dura non ancora neanche perchè tanto va che deve ancora riprendersi quindi dove va adesso? va a mangiare? vediamo se riesco a... no cazzo non si impari che vede che vede che vede che vede che vede che rapo di cazzo che vede che vede che vede che vede cosa pensi di fare? che vede che cazzo ce la sta prendendo con nessuno? se lo so va 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 Ho una bella scaglia, perfetto. Ora mi risulta che si venga a dorma qua. No, infatti che cazzo c'è molto a cogliere in questa zona? Domanda. Eh, eh, eh. Vedete adesso. Trotto. No, ti pareva. Dai. Scavati dal cazzo. Dai. Che pavio sei, oh. Dai. Non dovresti schiattare, sai com'è? Da cazzo stai tirando un imbecille. Si è stupido, però, eh. Merda. Mamma mia, ragazzi. No, cazzo. Devo andarmi in questa zona. Se li arrivo qua, io ne vado. Boh. Porca puttana. Merda, adesso. Cazzo. Vabbè, ragazzi. Aspetta un po'. Dai, rio, cane. Già, già. Già giù di merda. Già, ragazzi. Sta già dormendo. Sì. Vedi, ecco, presi. Adesso le piazza la trappola. In modo che... Sì. Ok. Fate la nenne, va. Stronza. È andata, ragazzi. Sempre vuole. La rigoglia. È stata l'ora, ma ce l'ho fatta. Allora, carapace, scaglia più scaglia più, orteglia, osso diametrico, zanna più, amore te con l'assunto, sfada matura più tre. Ottimo, sfada matura più uno, ottimo. Osso mostro più. Non mi serve, zanna mi dai non mi serve, osso diametrico. Artiglia più, zanna più, scaglia più, zanna più, pace. Artiglia più, zanna, carapace, carapace. Vilcristallo frenetico. Minchia, che descrizione che... Non rosare neppure guardando. Trasiglia nella foglia te e qualsiasi artigiano. Minchia. Veramente minaccioso. Allora, tupacchi raccolto, bacca pittura, bravo. E erba, bravo. E tu smacca, gusci di bacca, bravo. E bantietro messero, sinistrosi, sì. Andiamo già a testo. Sfinitore più tre, attacca più tre, bravo, bravo. Vabbè. Minchia. Perfetto. Anche perché sei tra quelli più bassi che ho messo come titolari. Quindi hai proprio bisogno di sei di livello, caro bello. Uh, ragazzi. Vediamo parlare. Il che è una buona cosa. Buonasera, maestro Gilda. No, però. andava sullo Special Gradius. Bene, è fantastico, ragazzi. Sì. Sì. Ma va? Ok. Bene, ragazzi. Non mi devo l'ora di questo momento qua. Perché vuol dire che queste sono le mie missioni che devo fare al Gran Cacciatore 5. Bene, ragazzi. Questo è il campanello di Facebook e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti.